ci siamo cari utenti di youtube domani 9 giugno 2017 ci sarà la penultima puntata di selfie il famoso programma di canale 5 condotto da simona ventura con la collaborazione di benedro rodriguez che si occupa in qualche modo di cambiare notevolmente il look delle persone persone che vanno a selfie dopo che ci vanno si trasformano completamente sono persone più belle a livello estetico sono persone più grintose sono soprattutto persone che acquisiscono una maggiore sicurezza in loro stesse e ciò lasciatemi dire che davvero molto positivo nella ultima puntata di domani che ricordo un'altra volta il 9 di giugno del 2017 alle ore 21 su canale 5 ci sarà anche la storia tra le tante proposte di un ragazzo purtroppo in sovrappeso che era in sovrappeso e che purtroppo vi ricordo che è stato vittima di bullismo proprio per colpa di questo suo sovrappeso di questo suo corpo così grosso così generoso però grazie a selfie le cose cambiano ecco che la trasformazione in questo ragazzo avverrà con grande pienezza il ragazzo infatti diventerà un altro sarà cambiato avrà una maggiore sicurezza di se stesso e sarà per così dire più contento del suo fisico e della sua per così dire assi e senza due ottimi personaggi si ricordo prenderanno cura di lui che in qualche maniera si prenderanno cura appunto del personaggio lo seguiranno sono appunto il buon stefano de martino ex di amici e bernardo corrali ma nella puntata di domani ed è proprio questo l'argomento più importante secondo me senza tralasciare però il caso che poc'anzi vi ho esposto è il fatto che per così dire prende il posto per una sera soltanto a posto di appunto della style di selfie anahirika la richiesta però sarebbe stata solo in parte le spinta il ragazzo può cambiare look di platinet caccetta mentre tina avrebbe però detto di no questo sarebbe quanto il video termina un saluto iscrivetevi a presto grazie